cari signori della fiat per questo natale desideriamo tanto una punto nuova con l'extra bonus possibilmente noi quest'anno siamo stati tanto buoni ma anche voi dovete essere buoni specialmente se volete rivedere babbo natale vivo non serve essere buoni questo natale puoi avere punto bluemia 9.900 euro tutto di serie e fino a 1.000 euro di extra bonus su tutta la gamma fiat in pronta consegna corri hai tempo fino al 31 dicembre